FAN DER STREET FAN DER STREET YEAH 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 FAN DER STREET FAN DER STREET Bella raga, ciao a tutti, da Cume in Dona e Veneziano Vaffanculo telecronista, siamo a 18 km Siamo alla tappa 7 della Vuelta Siamo secondi nella classifica giovane, i tredicesimi nella generale Stiamo andando molto molto bene Qua c'è il porco di De Genta, c'è il porco Dove è il cume, dove è il cume Del cume deve tenere assolutamente Non c'è verso Allora vediamo qua chi sta scappando via Quintana, cazzo ci sono già dei big che sta scappando Ma a 16 km dal termine mi sembra un azzardo Qua Quintana ha già 20-20 minuti di ritardo Però è attenzione, non è per quello È per quello che è il porco Pronto l'attacco Stiamo facendo anche una buona volta Una buona volta di Espana ragazzi Dopo il grandissimo giro che ci ha consacrato al miglior giovane Allora calma, relax, come relax 14 km, 14 fottutissimi km Possiamo cadere un po' più veloce Perché tanto stiamo recuperando sui fuggitivi Eccoci qua Non è che ci siamo 11 km Manca ancora la salita più dura Però siamo in corsa Siamo in corsa Il piccolo Galopin Il sesto Galopin E qua tuttusa gente forte C'è ragazzi nei grandi giri Guarda Herli, grandesimo Mi può anche difendere il porco Bene, bene Aspetta che devo stare anche attento Perché Sto perdendo tanto la barra gialla Ma che posso fare tanti scatti Dai fioi Crediamoci Crediamoci Tutto is possible Tutto è possibile Perché sono scalati impegnative Ragazzi Non ho più Non ho più La barra gialla ormai se ne sta andando E questo non è positivo Ok Siamo nel gruppo 1 Siamo primi Attenzione Parte Parte il porco In genere energetico E il cume prova a scattare Il cume ci prova Attenzione Il cume ci prova Il cume Prova a fare uno scattino Bravissimo cume Bravissimo cume Eccezionale Veramente cume Eccezionale Adesso devi solo tenere Ci stiamo giocando La vittoria in due Io e Kalderman Che è forte in accelerazione Però Vai cume E questa è la battaglia Questa è la battaglia Vai Eh forse se la fa No Il cume vuole la prima vittoria Della volta E Kalderman va Kalderman va Kalderman va Ancora seconda Porca troia Ancora secondo Incredibile Due secondi posti Alla volta Mi manca l'acuto finale Per la vittoria Sfavorevole L'ottava Per il cume Con un arrivo comunque In pianura piena Eeeh Insomma Vediamo cosa riusciamo A combinare E abbiamo Pippo Gilbert Un attimo Ehm Gilbert ci prova Chiaramente Gilbertone ci prova Non possiamo Dobbiamo lasciarlo Per forza andare Non c'è alternativa Punta ancora un podio Porca troia Prova adesso Il cume ci prova Adesso Ma comunque Non ce la può fare Non ce la può fare Il cume Niente da fare Neanche a podio Non arrivo Chiaramente Peccato Ottavo posto Bravo Però bravo cume Dai ci sono sempre Dei primi 10 Collinare Siamo a 4 minuti e 49 Dal secondo Classifica giovani Stiamo andando Ormai i giovani Non voglio portarmi sfiga Però siamo messi Veramente bene E siamo Comunque Sesti Nella generale A 1.37 Stiamo andando In una maniera Ah Qua parte il porco Eeeh Ok Insomma Stiamo tranquilli Per il momento Avemo un più tre Avemo una forma Sto azzeccando Le allenamenti Questo è fondamentales Le veramente Fondamentales Qua c'è gente Che parte Qua c'è gente Che parte Eeeh Impey Al porco di Impey Un altro porco Ragazzi Un altro porco Impey Eeeh Siamo partiti Tardino Forse Siamo partiti Tardino 10 Il primo 33 secondi Penso sia quasi Impensabile Eeeh La il porco E la il porco Vai Il come prova Chiaramente Adesso A fare qualcosa Ma È veramente Veramente Dura È veramente Dura Il come ci prova Adesso Va 99 Il cube Eeeh No Non può farcela È troppo Impensabile Il cube Distrutto Vai cube Vai cube Regalaci la prima vittoria Della vuelta Regalacela Ma sarà un'impresa Regalacela Ma sarà un'impresa Disperata Disperata Ce la fa L'ultimo Incredibile Ancora Ancora Podio Ma non è vittoria Sta a 2 secondi posti E un terzo posto È veramente Una maledizione Questa volta Tamocari Però Fioi Sto lottando Per la vittoria Per adesso Sto andando alla grave Fioi Ho 76 di hover It's incredible Come It's incredible E Fioi Siamo Con un meno 2 di forma Quindi Una tappa così dura Ragazzi Guardate la mappa Fioi Tappa Andorra Lavella Cortless Denkamp Che becchè Dopo con un pronuncio Comendiane Proprio tipiche E niente Fioi La vedo un po' improbabile Qua di far qualcosa Da 2 secondi posti E un terzo posto C'è incredibile Non so che dire Fioi Siamo molto stanchi Siamo molto Molto stanchi Stiamo facendo Una prima parte Mostruosa Speriamo di non pagarla Dopo Ai 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 Il come comincia a perdere Colpi Il come comincia a perdere colpi Lo vedo Lo sento Il come Sta cominciando a perdere colpi Il come è stanco Il come è stanco Signori Il come è stanco Può essere la prima Può essere la prima vera crisi Dai come ti induro Te prego Ti induro Te prego Manca ancora tanto Però Facciamolo riposare un attimo Se possibile Non ce la fa più Non ce la fa più Non ce la fa più Niente da fare Raga Niente da fare Tappa in salita Tappa in salita Questa tappa in salita Purtroppo In tutti i sensi Cerco di recuperare qualcosa Ma Qua ho preso le bombe Ho preso molto Molto le bombe Ho perso A occhio Parecchi secondi Vediamo Sei parecchi minuti Eh l'ho vista subito Non potevo fare niente Ragazzi Ma dai Ci può stare Dopo la giornata di riposo La pago sempre Io non c'è niente da fare Dio Kristiansen Vediamo un po' Come finisce Questa tappa Vediamo Eh Valverde Valverde Occhio Forse la maglia La maglia rossa Vediamo Se si sbriga Magari Si stronzi ad arrivare Ste merdacce Eccoli qua No niente Eccola là Eh Si stanno ritirando Parecchie aziende Ebbene Una delle tappe più impegnative Proprio per numero di salite Mamma I primi Spero che Allora vediamo Sesti 452 Da Valverde Basta Per il primo posto Ormai è andata Possiamo arrivare Tra i primi Ce la giochiamo Fino all'ottavo posto Ottavo Dai Almeno ottavi È l'obiettivo Vediamo per Globale appunti A bei quinti Montagna Chi se ne fotte Siamo comunque In zona Top 10 Migliore giovani 7 minuti 27 Grandissime Qua dai Stiamo ipotecando La cosa più importante Buono raga Un saluto Alcumendone Veneziano Il cume Sta dimostrando Veramente cose Importantissime Ciao